E ciao a tutti amici sono sempre il Gold e benvenuti in questo nuovo episodio di Space Engineers Serie Survival Vi ho ascoltato gente e ho fatto delle modifiche, guardiamole subito Da cosa partiamo se non effettivamente la cosa che sta davanti ai nostri occhi? Ho aggiunto qualche pezzo qua Praticamente come potete vedere, in realtà adesso si vede soltanto l'helipad ma chiaramente alcuni di voi avranno notato anche qualcosa nello sfondo Ho aggiunto un helipad così da poter facilitare il parcheggio, tra virgolette, dell'elicottero E mi sono ispirato un po' all'altra piattaforma ma l'ho fatta un po' più piccola e sono abbastanza soddisfatto di com'è venuta All'interno non è cambiato niente, ovviamente sto parlando giusto di qualche dettaglio minimo proprio, stiamo parlando davvero di dettagli Passiamo di qua, come potete vedere ho scavato questa parte e ho messo delle grate Molto bello l'effetto, mi piace molto perché sembra che la neve comunque sia salita sopra le grate È particolarmente carino Di qua ho aggiunto, come potete vedere è comunque separato il powerline pillar che scende come abbiamo collegato la scorsa volta fino all'altra base Ho portato il container qua con l'elicottero dato che effettivamente lo dovevo spostare Ho messo questo per la ricarica perché non avevo da nessuna parte dove ricaricarmi Qua è sempre lo stesso, vi ricordo, le batterie sono in ricarica giusto? Esattamente E uscendo di qua invece, l'illuminazione è ancora un attimo da curare di qua, ma fa niente Ho modificato un po' ragazzi, come potete vedere adesso vi faccio vedere da sotto Ho adottato il design che in tanti mi avete detto, cioè di fare degli alberi solari Tra virgolette, tra virgolette, perché prima potevano ruotare soltanto in un asse Così riescono a ruotare in due assi e dovrebbero teoricamente seguire meglio il sole Ovviamente ci sono pro e contro ragazzi, è normale perché questi probabilmente sbatteranno Se non tra di loro, perlomeno contro la struttura Te sei un po' vicino a Scattler, sei a 1,8 km e mi passi qua sopra Se mi attacchi giuro che mi incazzo Comunque, c'è ancora da valutare effettivamente come siamo messi Perché è piena notte, praticamente ci ho messo un paio d'ore a fare tutti gli aggiornamenti in questa zona E un intero episodio fatto off camera Comunque, questa qua è la modifica, come potete vedere sono stati fatti uguali praticamente E a un certo punto mi sono pure accorto di aver fatto un errore, ho dovuto smantellare tutto Lasciamo perdere Stavo pensando ovviamente a come faremo poi eventualmente per espandere questa zona di produzione Eh, questa è una bella domanda Probabilmente farò una copia o comunque utilizzerò questa base qua E la spargerò un po' in giro Tipo, che ne so, la si mette laggiù un'altra La si mette, che ne so, dall'altra parte E lì si collega tutti con i cavi Perché secondo me è corretto Secondo me è corretto, almeno possiamo distanziarli un po' E aumentare la produzione energetica Ora, parlando di produzione energetica Questo teoricamente era un obiettivo Ma non sento di averlo ancora soddisfatto Perché questa non ci darà abbastanza energia per sostenere tutto Tant'è che, nell'episodio di oggi Dovrò anche andare a costruire tutti i powerline pillar Che vanno fino all'altra base Che però è parecchi chilometri più lontana Ma non credo di farlo adesso Perché nell'episodio di oggi voglio occuparmi di qualcosa di estremamente importante Allora, se siete stati su Twitch Avete sicuramente visto le live di progettazione Quindi conoscete la piattaforma di lavoro La piattaforma mobile Il carrello elevatore tribolo, insomma Così come il Goldozer Che è il nostro nuovo muletto Insomma, voglio costruirli Perché ci servono, assolutamente L'R3 T21 ancora non lo voglio costruire ragazzi Perché con i nuovi blocchi verrà molto più bello Quindi quello piuttosto lo rivedremo un attimo in live Però appunto voglio costruire quei due progetti Perché ci abbiamo messo un totale di 7 ore per farli Sempre in live E perché non farlo adesso che abbiamo i materiali adatti? Esattamente Quindi, nell'episodio di oggi Carichiamo il container che credo dovrà essere smantellato a questo punto Perché l'ho un po' danneggiato E sinceramente vorrei rifarlo Appunto, visti i nuovi blocchi Torneremo giù ovviamente con l'elicottero E andremo alla prima base Quella dove abbiamo l'helipad grande Perché lì, secondo me, riesco a costruire meglio Partiremo con la piattaforma mobile tribolo Che ci servirà poi eventualmente per costruire anche il resto La piattaforma probabilmente deve essere un attimo modificata Perché appunto, grazie ai nuovi blocchi Secondo me, riusciamo a migliorarla Ho tanti, tanti progetti di cui parlarvi E ci arriveremo tra poco Perché ho paura che, secondo voi, questo episodio sarà un po' più sottotono Rispetto agli altri Ma spero che non la vediate così, ragazzi Vedrete quando avremo costruito i piccoli veicoli Inoltre, questi veicoli ci servono È innegabile che ci servano Perché appunto, volendo fare le cose a questo modo Ci servono anche quei piccoli veicoli di utilità E quindi, non ci posso fare niente Sono necessari Comunque, quello scattler alla fine ci ha, tipo, doggiato tantissimo L'ho preso, l'ho preso Male, ma l'ho preso Ok Torniamo giù Inoltre, ho lasciato ancora il rover in giro da qualche parte Perché ho dovuto rifare poi eventualmente le connessioni Però dovrebbe essere qua sotto Circa vicino agli ultimi power pole Oh, là sotto Eccolo, l'ho visto È là sotto Comunque, davvero Complimenti a me per aver preso un posto pessimo Per costruire quello che ho costruito Ah Vi ricordo che uno dei nostri obiettivi al momento è il ghiaccio Che ci serve disperatamente Disperatamente per i rifornimenti e per un'altra fonte energetica Allora, per questa volta Cioè, per questa puntata non ho Alcun tipo di progetto da fare con il container E dato che effettivamente lo voglio smantellare Non mi preoccupo nemmeno tanto Perfetto E ci siamo Container sganciato Adesso l'elicottero lo mettiamo qua a fianco Sto diventando sempre più bravo con questo elicottero Belli complimenti quando te li fai da solo Allora, colleghiamolo come al solito per la ricarica Logical connection, I hope so Ok, allora Vediamo un attimo di scaricare Vi dicevo, non ho piani per questo container Per questo container, sì Perché effettivamente è da buttare ragazzi Non c'è niente da fare Lo devo buttare perché si è danneggiato Insomma, lo voglio anche rifare Quindi, per prima cosa lo smantelliamo Dopodiché utilizzeremo questa piattaforma Per andare a costruire i nuovi progetti Che appunto sono quelli che vi dicevo prima Partiremo con la piattaforma da costruzione Tribolo Sto cambiando il nome non so quante volte Non me ne vogliate però non me la ricordo mai Dovrebbe essere piattaforma di lavoro Tribolo Se ricordo bene Partiremo con quella Perché credo sia logica Dato che è effettivamente un appoggio logistico Per poter costruire poi il resto E da lì invece faremo il gold dozer Fatto poi il gold dozer Potremmo tranquillamente passare a A costruire un altro container Perché appunto potremmo muoverlo Ok Dovrebbe essere fatto tutto Quindi tifo a pezzi Mi sto anche accorgendo che devo alzare un po' il volume No, non la musica L'audio Ok Ho citato un aggiornamento Ovviamente sto parlando dell'aggiornamento Wasteland Del quale abbiamo fatto il reveal O comunque l'analisi direttamente in live Vorrei sapere voi cosa ne pensate Io ovviamente l'ho preso perché mi hanno convinto Semplicemente con il trailer Ma poi essendo molto legato a Space Engineers Per me è quasi un obbligo Doverli prendere i DLC E volevo sapere qua sotto nei commenti Fatemi sapere cosa ne pensate Effettivamente dell'aggiornamento Se vi piace Se effettivamente vorreste qualcosa di diverso Semplicemente dai Dai DLC estetici Perché ovviamente questo qua è un po' un misto Cioè ci hanno dato cose Prettamente estetiche Ma anche altre utili E parlo principalmente dei nuovi blocchi Nuovi blocchi ragazzi Che sono qualcosa che noi Giocatori di vecchia data Abbiamo chiesto da Eoni ormai Perché Perché dai Come fai a non darci quei blocchi Su per favore Come se fosse difficile farli Tempesta di neve Proprio ora dovevi arrivare? Mannaggia Allora mentre che si placa la tempesta di neve Io vedo di Di pensare a dove potrei fare Il tutto Ok allora la tempesta sta mollando un attimo Ehm Già che ci sono in realtà Vorrei fare un'ulteriore modifica A A questo rover Essendo un rover Queste ruote non mi piacciono più E avendo la possibilità di scegliere Che fai a non c'è ne mette quelle fraud E quindi ci metteremo quello fraud L'unica cosa è che Devo fare una modifica alla base Che è già da un po' di episodi Che ho detto avrei fatto Ma non ho mai fatto ancora Quindi vedo di farla subito Cioè Dare la possibilità ai mezzi Di salire qua sopra Inoltre Ehm Molti di voi che hanno seguito Magari l'aggiornamento Avranno visto che adesso C'è una nuova texture La Ehm Concrete Allora Io ho comunque la mod Del cemento E punto ad utilizzare Principalmente quella Perché Oltre a darci uno scopo Alla ghiaia Ha una texture Che è leggermente più curata Inoltre Ce l'avevo già dall'inizio Sinceramente Mi aveva già Già convinto Con il fatto Di poter dare uno scopo Alla ghiaia Quindi non credo La cambierò Ok allora La salita è fatta Per ora Va bene così È una salita Insomma Ci metto su il rover E andiamo a cambiare Subito le gomme Inverti Oh peccato Ha funzionato soltanto Soltanto per quelle dietro Va bene Va bene Partiamo con quelle dietro Nessun problema È come un pit stop Proprio stupido Ok Ok Nere Benissimo Nero Nero E nero Ti che cazzo ci fai qua Ok Ora dove posso mettere Le cerniere Invece per Il davanti Qua magari No Ok Andrà bene lì Guardate Inverti Benissimo E possiamo rimuoverle A sto punto Guarda tanto abbiamo finito Ok Fatto Va tutto a posto Yes In realtà Devo togliere anche queste Perché adesso Abbiamo le luci apposite Non è fanale È Faretto No Spostato Eccolo qua Yes Riflettore spostato E luce spostata La luce Praticamente È quella Per Dietro Eccoci qua E queste sono fatte Apposta Ragazzi Sono fatte Apposta Proprio per questa Ragione Beh per questa Applicazione Non per quella Ragione Benissimo Ce l'abbiamo Fatta Quindi abbiamo Fatto Tutto Praticamente Colorata Yes Colorata Colorata Benissimo Allora Pistone Togliamo il cric Ok E cerniera Inverti Sì in realtà Puoi anche Non farlo Perché tanto Tu vieni con me Ok Fantastico Dobbiamo terminare Con il dettaglio Che c'era prima Praticamente LCD Questo qua E Finestra Oh Fiamo queste adesso Che di nuovo Sono fatte Apposta E mi serve Il vetro blindato Non ci voglio credere Due di vetro blindato Right away Eh dai Adesso si che sembra Il fronte di un radiatore Bene Bene così Mi piace Ok Quindi abbiamo sistemato Teoricamente Devo vedere un attimo Di nuovo I gruppi Ok Modifiche fatte Per coloro che Se lo fossero chiesti In realtà Non cambia Nulla Le ruote Sono uguali Ragazzi Questa è una cosa Che ho visto tramite Cioè sul reddit Di space engineers Non cambia Oggettivamente niente Tra le due ruote Però queste qua Secondo me Sono un po' più carine Sì Secondo me Sono un po' più carine In realtà Sto vedendo Delle altre modifiche Che posso fare Tipo Togliere queste finestre E mettere quelle apposite Eh dai Non è male Non è male per niente Comunque Abbiamo fatto le modifiche Che dovevamo fare Sono un attimo Tentato Ma Tenerlo fuori In realtà Dalla Dalla piattaforma Per ora Perché non Non credo che ci servirà Più di tanto Scendi Da bravo Ah no Eh questo potrebbe essere Un piccolo problema Ci arriveremo poi Col cemento Ok Ok L'ho fatto scendere Principalmente Perché adesso Lì ci dobbiamo costruire Quindi mi servirà Parecchio spazio Vi devo parlare un attimo Dei problemi Che incontrerò Nel costruire La piattaforma Di lavoro Tribolo Cosa succederà La piattaforma Di lavoro Tribolo Ha tante Sottogriglie E come potete Ben immaginare Non Non si riesce A stampare Tramite proiettore Tutta in un colpo solo E questo perché Il proiettore supporta Giusto una griglia Niente di più Quindi quello che farò io Sarà Costruire la base Cioè stampare la base E poi andare ad aggiungere I pezzi Modificando le impostazioni È un processo Un po' più lento Chiaramente è un processo Un po' più lento Ma dovrei avere Il progetto Bene in mente Così da poterlo Poi modificare Eventualmente E riadattarlo In un attimo Quindi dobbiamo fare Di nuovo Il magheggio Della scorsa volta Se vi ricordate Con il rotore Eh Eh Quindi facciamolo Va che meglio Allora Rotore Vieni qua Fatto Allora Proiettore E mo ci divertiamo Progetti Eccoci Non dovremmo Metterci Per niente Tanto tempo Per Per costruirla Perché Eh Ma è molto piccola Come potete vedere Vai Controllo remoto Wow Wow Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Esattamente Qua Scusa un attimo Rotore Cosa sta facendo Che ci crediato No Questo lavoro qua È estremamente Delicato Perché Quando si fa Un progetto Di questo tipo Generalmente Si tende a curare Anche l'estetica Ma Quando lo si fa Invece poi Durante appunto La costruzione È un po' più difficile Curare l'estetica Perché effettivamente Vai a costruire Del tutto I blocchi Che magari Hai semismerigliato Quindi è un po' Un po' difficile Starci dietro Eh Comunicazione Componenti di comunicazione Non ne ho Ma li posso fare Perché non richiedono tanto Mi è già fatto Wow Ma che davvero Ok Cosa dobbiamo fare adesso Quattro pistoni E le ruote Questi non mi serviranno più Pistoni Pistoni Eh Poi ci sarà Parecchio lavoro Da fare Per l'ottimizzazione Di nuovo Preferisco Preferisco Andare a curare Anche l'aspetto Della resistenza Per i blocchi Che stanno alla base Perché letteralmente Costituiscono Le fondamenta Della stabilità Dell'intera piattaforma Quindi È meglio Non andare a risparmio In questo caso A parte che abbiamo I materiali Quindi non vedo Perché dovremmo andare Effettivamente a risparmio Questo progetto Vi sembrerà tutto più chiaro Una volta che sarà finito Non vi preoccupate Costruzione Eh Meno male Che il me del passato È stato previdente E ha costruito Un casino Un gigaglione Di materiali Allora La base è fatta Io vorrei azzardare E dire Boh Costruiamo il resto Posso? Posso azzardarmi E dirlo? Ma spero di sì Perché è quello Che sto per fare Allora Per favore Devo salire qua sopra Non ce la farò mai Le impostazioni qua Saranno Particolari Ok? Perché dovranno Essere curate Quindi di nuovo Cerniera base La si va a invertire Cerniera base Inverti E Bloccricchetto Adesso l'hanno rinominata Ma chi Ma Ma chi le fa Scusate Ma chi le fa Ste traduzioni Guarda Ma chiamatelo Giunto Meccanico A sto punto Chiamatelo Giunto Meccanico Poi vi spiegherò bene Quali sono le impostazioni Prima voglio Portarle a termine Mettiamola così Voglio portarle a termine A costruzione Si intende Corretto? Eh Corretto sì Ok Sì sì Va bene Non mi interessa Che vi state Abbattendo Ok E abbiamo fatto anche questo Vediamo un attimo Se riesco A invertire quelle cerniere 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 Ok Questa qua è la cerniera Intermezzo Momento di controllare Ok Controllato Allora Prima di tutto ho sbagliato Alcune cose Eh Queste qua Non sono cerniere Intermezzo E soprattutto Non le devo chiamare così Allora Per favore Togli il blocco Scendi Grazie mille Ok Quella si bloccherà Eventualmente Ora mi serve Una delle due cerniere Intermezzo Meno 90 Dovrebbe essere Quella sopra Se è quella sopra È effettivamente La cerniera Base 2 Cerniera base 1 Inverti Grazie Ok Vedete che si sta sistemando Quindi quella lì Adesso è sistemata Andrà al suo massimo Ovviamente Ok Adesso va sistemata L'altra cerniera Quindi te adesso Ti puoi invertire E te Pure ti puoi invertire Fantastico Perché almeno dovremmo Poter riuscire A salire E mettere I rimanenti Due pistoni E base di un'altra cerniera Perché poi invece Il cestello Il progetto del cestello Ce l'ho Cestello comunque Parte superiore Quindi adesso si può caricare Effettivamente Il progetto del cestello Quindi teoricamente Adesso le varie cerniere Quindi intermezzo Intermezzo Base base Inverti Ok Sta funzionando Bene Quindi ora dove posso mettere Il Il Proiettore Non ci arriverò mai O fila solo Sai vero Non dovrebbe essere Un problema Invece lo è tantissimo Proviamo così Alla brutta proprio Ma stiamo andando Proprio alla brutta ragazzi Quindi ci siamo Dovremmo poter salire E saldare il resto Anche se questo mi mette Oh no Ah Stavo per fare una boiata Va fatto scendere di uno Proiettore Spostamento anteriore No verticale Zero Ora è corretto Bene Mi serviranno un po' più di travi Eh Ora Adesso ero sincero E inoltre poi dovrò estendere Probabilmente Quindi fatemi andare a prendere le travi Inverti Yes Yes Ce la stiamo facendo Si Lo scala Così possiamo salire e scendere Bene Componente di costruzione Componente di costruzione Tu puoi acciaio grande Va bene Ah Bene Non ti incastrare Mamma mia Come funzioni Teoricamente Devo togliere Un po' di blocchi Ma è terminato per davvero Cioè posso Aha Sapevo Qua dietro ci sono delle finestre Allora gente potrebbe Ce l'ha fatta Ma ovviamente Avevo finito L'ossigeno Al volo Quindi Sono dovuto andare A riprenderlo Ce la farò a salire qua Lo spero Ok Praticamente La cerniera Si incastra Allora Se adesso mando Il comando di Chiusura Lo fa senza problemi Teoricamente Questa è la prima volta In realtà che lo faccio Guardate adesso Ok Rimarrà un po' Inclinata Non dovrebbe essere Troppo un problema In realtà Perché Perché così Se io faccio di nuovo Ripiega e stendi Parte Senza problemi Ora andrò a modificare Un'altra cosa Attendiamo Giusto un attimo Intanto questo qua È anche la presentazione Del progetto Ok Vedete Perfetto Andrò a modificare Una cosa Base Cerniera base Vedete che Il limite inferiore È messo a 10 gradi Si lo metto anche Soltanto a 8 Guardate E ripiego tutto Ok Adesso è a 8 gradi Provate a indovinare Cosa succede Se provo a farlo partire Si incastra Quindi Per ovviare A questa cosa qua Si si può fare Non vi preoccupate Si può fare Però bisogna modificare Alcune cose Cioè Prima di tutto La cerniera base Dovrà stare Per forza A 10 gradi Non c'è niente Da fare Per questo Una cosa che invece Possiamo modificare È l'attacco Delle altre cerniere Questa qua La si può mettere Come limite Superiore A 80 gradi Così Si può bilanciare Praticamente Il problema Alla base Perdiamo In realtà Non cambia nulla Sono giusto Un 10 gradi Di differenza Ma Così almeno Abbiamo Questo Pulito Perfetto Non sto scherzando Ci ho perso Adesso 50 minuti Prima di tutto Per finire La costruzione Per fare Tutta l'ottimizzazione E far sì Che funzionasse In tutto questo Si è anche ricaricato Ve ne rendete conto? Comunque Praticamente Adesso possiamo fare Effettivamente Il saliscendi Che come vedete Ci dà Parecchia Elevazione Eccoci appunto Ovviamente Le velocità Sono limitatissime Per forza Perché Più è limitato E meglio Inoltre Qua abbiamo Le informazioni Delle batterie All'interno E ovviamente Dovranno essere Sempre E comunque Collegati Questi macchinari Quindi ripiega E poi ovviamente Lo stop È invece Per i pistoni A questo punto Non mi servono più Questi pulsanti Ok Benissimo Ultima chicca Ultima chicca Assolutamente Se andiamo qua Facciamo guida ascensore E andiamo in terza persona Possiamo Portarlo via E metterlo Dove più ci servirà Ovviamente Vanno modificate Alcune cose Tipo Pistoni base Avevo tolto I tensori inerziali Ah Questi mi servono Guardate Perché adesso Comunque È un po' È un po' A mezzo No? Quindi diciamo A noi Magari adesso Non serve più Quindi Chiudiamo la base Guida ascensore Controlla E indovinate Un po' Lo parcheggiamo Qua dietro Guardate qua Per il controllo Delle ruote Sto utilizzando Uno script Che mi dà la possibilità Di controllare Le ruote Cioè le sottogriglie E ci siamo E qual è il problema? Ora Io ho perso Molto tempo Gente Devo valutare Un attimo Se effettivamente Ho abbastanza tempo Per poter registrare Altro Spero di Avercelo Quindi Fatemi fare Un power socket Che mi servirà Qua da qualche parte In realtà Magari lo mettiamo qua Giusto per caricare Questa cosa qua Ti attacco qua Benissimo Caricati Allora gente Ci ho pensato un attimo Dovrei Avere il tempo Materiale Effettivamente Per poter Fare anche Il muletto Purtroppo però Non avrò Tempo per fare altro E che mi dispiace Davvero tanto Perché volevo fare Più progressi In questo episodio Però comunque Se tutto va bene Vi riuscite a vedere La nuova Piccola flottiglia Tra virgolette Di Veicoli di utilità Allora Andiamo a riaccendere Qua Proiettore On Progetti Goldoser Muletto Porta container Goldoser Allora Qua avremo Un'altra serie Di criticità Come vedete Qua c'è la base Per alcuni Pistoni In questo caso Non c'è da preoccuparsi Perché per fortuna I giunti meccanici Sono molto Molto più semplici Quindi Appunto Come vi dicevo Non mi preoccuperei troppo Proiettore Spostamento Verticale Magari mi metto Di qua Così riesco A vederlo meglio Esatto Indovinate un po' Cosa che ci serve Esattamente Ma secondo voi Riesco ad utilizzarlo Quando ancora È attaccato All'elettricità Stendi base Oh Che figata Eh sì che ce la faccio Ma va là Ma che figata E via Iniziamo Direttamente con il motore Idrogeno Ehi C'ho già tutto Ma è fantastica Questa cosa Gente Sì che ho il generatore Di carburante Eh ok Tubo d'acciaio piccolo Fatemi fare un po' di Rifornimento Tubo d'acciaio piccolo Mi serve Yes please Quindi praticamente Stiamo partendo direttamente Con la parte di chassis Beh non è sbagliato Non è completamente sbagliato Partire con lo chassis Quindi magari possiamo Poi salirci sopra E lavorarci direttamente Ok Qua dovrebbe essere Praticamente Tutto fatto Ah Non me la faceva costruire Ancora la batteria Ecco perché Serve vetro blindato Capito Va bene Qua intanto Sta andando Qua dietro Ah è vero Fatemi vedere un attimo Qua Mi servi te ancora C'è tutta questa parte Di Dettagli Ok Ho costruito anche questo Ok Vi posso dire Che siamo già Un ottimo punto Perché tra poco Avremo finito Praticamente La parte frontale Allora Vedo che mi ha piazzato Praticamente i progetti Di tutto E questo qua È un problema Di space engineers In realtà Che ti piazza Tutte le componenti A sto punto Sono un attimo Tentato No Per le prossime volte Per le prossime volte Praticamente avremo Una stazione di stampa O stazione di stampa Insomma Comunque Poi ci arriveremo Tanto dovremo Produrre in grande quantità Questi tipi di mezzi Quindi figuriamoci Se non lo avremo Ok Il pistone è andato E da qua poi Bisogna costruire Il I rimanenti giunti Meccanici Oh Ce l'ho fatta Griglia metallica Motore Oh Bene E ce l'abbiamo fa Cos'è che mi hai costruito Ancora Vediamo Proiettore Mancano Lucero Tanto Ok Va bene Va bene E alcuni armor block Ah Non è dubbio Va bene così Ok Sposto un attimo Il tribolo qua Allora Stendi base Quindi ritrai base E Guida ascensore Un po' più indietro Grazie mille Ok Questo in realtà È molto più semplice Da sistemare Perché Ho Fatto Queste batterie Che sono queste Le mettiamo in ricarica Probabilmente andiamo un po' avanti Quindi Ruote Per favore Fate così Con una forza Del No la forza deve essere Del 25% Perché poi Quando trasporteremo Cariche pesanti Ve ne accorgerete Darà qualche problemino Qualche Non troppo Quindi adesso mi servono Pistoni E soprattutto Ricoloralo Per favore Adesso me lo fai colorare Però Se c'è un blueprint sopra Invece no I bug di space Bene Ok Anche questo Grazie Ma volete dire Che mi servirà Sì mi servirà Mi servirà La piattaforma Benissimo E infine Qua ci vanno Due cerniere E i carnali D'atterraggio Quindi mi servono Tubi d'acciaio Grandi E qualche motore Probabilmente Ok Cerniere Magari quelle giuste Grazie Benissimo Benissimo Oh Ce l'abbiamo fatta Al volo Mi faccio La parte estetica Ed eccoci qua Nuovo Fiammante Cricchetto Gente No perché Perché l'ho chiamato Cricchetto Perché due ore e mezza Che leggo Cricchetto Nelle cerniere Non era quello Che intendevo Volevo dire Cos'è che volevo dire Non ce la faccio Non ce la faccio Su più Sono distrutto Aiuto Questo è un Com'è che si chiama Un porta container Insomma Un muletto Ecco Il nostro Goldoser Nome scelto Di nuovo In live Allora Spiegazione veloce Di come funziona Abbiamo L'accensione E lo spegnimento Delle cerniere Che come potete vedere Diventano molle Quello che è Inversione Blocco Che non è funzionato Non ha funzionato Non ha funzionato Ok Ok Comunque Quello lì è il blocco Teoricamente Blocco delle cerniere Infatti Provo a invertire Ok così non va Poi invece qua abbiamo I pistoni rialzo Che sono questi E si possono fermare E far ripartire Quando ci pare Vedete E stessa cosa Invece vale Poi per Stavolta Devo fare così Vale per Il 6 Che invece sono Quelli di abbassamento E anche questi qua Si possono spegnere E accendere 8 invece È la sicura magnetica Che appunto Può fare tutte queste Belle cosine Quindi 4 e 6 Facciamo tornare Tutto insieme Vi vorrei far vedere Un esempio Però non ho Un container Da alzare Perché appunto L'abbiamo distrutto All'inizio Quindi Ne possiamo fare Vabbè Ne facciamo uno Senza carico Fidatevi Fidatevi soltanto Del fatto Che L'abbiamo testato In live Voglio provare A sollevare Il muletto E vedere Se ce la facciamo Lo dovremmo Sollevare Da sopra Chiaramente Possiamo sollevarli Anche dal lato Già questo veicolo Ci potrebbe dare Anche Una mano In caso In caso di ribaltamenti O cose varie Quindi Cos'è che dobbiamo fare Dobbiamo cambiare Prendi tutto questo Poi estendere questo Andare un po' avanti Perché non blocchi Non capisco perché Non voglia bloccare Giunti meccanici Blocca Deve essere un bug Questo comunque Ecco Si è attaccato Quindi teoricamente Se io adesso facessi Sei Lo alza E' stupidissima Come cosa E non la dovrei Non la dovrò fare Mai più Però l'ha alzato E che l'aveva attaccato male E quindi vorrei evitare Semplicemente E inoltre Non blocca Il Non blocca le cerniere Cosa che in realtà Ci serve Perché il blocco Delle cerniere Ci dà la possibilità Di prendere delle cose Inclinate Vi voglio far fare Vi voglio far vedere La stessa cosa A questo punto Lateralmente Vediamo se ce la facciamo Si uno si è attaccato Ma l'altro no E non mi piace Voglio fare il test del container Voglio fare il test del container Almeno vi faccio vedere Come funziona teoricamente Il tutto in realtà Cioè come funziona proprio Tutto il processo Pannelli da interni Ok Ovviamente questo non è un container Vero e proprio E' giusto per ora un container E basta Però vi faccio vedere Come dovrebbe funzionare Teoricamente Il nostro muletto Eccoci qua Si va bene davanti Lo si fa tornare indietro Questo attacca Ed eccoci qua E volendolo si può anche girare E a questo punto Lo si porta in giro Però considerate che questo qua Appunto è vuoto Quindi Non oppone resistenza Fidatevi che gli altri Oppongono parecchia resistenza Però già così E' estremamente comodo E soprattutto molto bello da vedere La propulsione del muletto Ci avrei dovuto pensare prima Ma in realtà in live Funzionava tutto Ovviamente La registrazione ha detto No you gold Io direi che per questo episodio Ci possiamo anche salutare qua Vi ringrazio tantissimo Per avermi seguito Vi invito a lasciare un bel mi piace E un commento Dicendomi come al solito Cosa ne pensate di questo episodio E come al solito Se avete dei consigli Per favore Lasciateli qua sotto nei commenti Io vi ringrazio ancora Per la visione Sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye